L'estrazione metteremo tutti i numeretti all'interno di una sacca e mi farò aiutare di un fantastico aiutante che è questo qua, che mi aiuterà a estrarre il numeretto allora intanto tiene questa sacca bella, così grande e iniziamo a buttare Questa è l'urna di? Tu ce l'hai il numeretto qua dentro? Come no? Ah, ce l'hai Anche questa è vuota? Qua sono tanti Il 9, c'è qualcuno che è vicino? Poi c'è il 6 E poi c'è il numero 1 Quindi il numero vincente è 0, 0, 0, 9, 6, 1 Lo dici dove lo viene pubblicato? Sì, questo numero sarà messo sulla nostra pagina Facebook sul nostro sito e su tutti i nostri punti vendita Quindi qualora avete il bigliettino a casa e volete controllare potete controllare in questo modo Intanto grazie e auguri di buone feste a tutti Grazie e grazie a voi a te grazie